Al contrario di quello che asseriva il marito, si vociferava che non fosse un matrimonio felice e che sin dall'inizio fossero nate incompatibilità tra i due. Una domestica, dalla lingua sciolta, aveva raccontato di una lettera che Teresa aveva scritto ad un'amica asserendo che dopo il matrimonio Georg si fosse unito a lei dopo quattro settimane. Lei aveva pianto, supplicando una risposta per quell'attesa, ma con il tempo sembrava essersi abituata a tanta freddezza, arrendendosi a un matrimonio spento e infelice. Grazie 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 Grazie